Il pagamento no, l'avrete visto anche voi, tutto questo è a disposizione di tutti. Non esiste un cancello d'ingresso, se non quello che avete fatto adesso, per la giornata di file aperto. Tutto questo progetto è stato fatto perché era un'epidemia voleva condividere con tutti. E le generazioni specifiche hanno sviluppato ancora di file. Quindi se venite no di Zegna, a parte farvi piacere, potete venire quando volete, qualsiasi ora potete decidere liberamente di dormire, di mangiare, di non fare niente, semplicemente farvi una parola di boschi e questo è un po' il ruolo che ha anche la generazione attuale di Zegna. L'avrete intravisto prima un'azienda...